La consacrazione della decima legislatura, quella firmata Luciano D'Alfonso, è cominciata oggi. Il primo consiglio regionale ha visto sfilare uno ad uno tutte le istituzioni della regione Abruzzo, a Corsi al Palazzo dell'emiciclo di L'Aquila per rendere omaggio alla nuova presidenza, così come vuole l'etichetta. A presenziare c'erano il prefetto e l'arcivescovo di Pescara, Vincenzo D'Antuono e Monsignor Tommaso Valentinetti, il sindaco dell'Aquila e il suo vice, Massimo Cialente con Nicola Trifuoggi, quello di Teramo, Maurizio Brucchi, Marco Alessandrini per Pescara e poi il comandante della Capitaneria di Porto, Luciano Pozzolano, sempre Pescara, i rappresentanti della Guardia di Finanza, tutti seduti sui propri banchi, un po' come il primo giorno di scuola, ma con una novità. L'anno inizia a parti invertite, la vecchia giunta ora siede all'opposizione, la maggioranza scopre i piani alti, i banchi con il gradino davanti. L'appello decreta alla presenza di 31 componenti, sono tutti presenti. Si comincia. Il discorso di apertura è affidato a Maria Carmela Lanzetta, il ministro degli affari regionali, che dopo i saluti istituzionali lancia un monito. La scelta dei cittadini si traduce oggi in una ricerca di impegno da parte di questo Consiglio regionale. Poi l'avvio. I primi punti all'ordine del giorno sono le votazioni per la Costituzione dell'Ufficio della Presidenza. Tre per la precisione. La votazione per il Presidente del Consiglio regionale, quella per le due cariche di consiglieri della Presidenza e quella per le due cariche di segretari della Presidenza. Le votazioni scorrono velocissime. Tutti eletti alla prima votazione, i due terzi della maggioranza sono rispettati, senza nessuna indecisione. Ad essere eletto come Presidente del Consiglio regionale, senza grandi sorprese, è Giuseppe Di Pangrazio, eletto con 25 voti su 31. Sei sono le schede bianche e sei sono anche i componenti del Movimento 5 Stelle che siedono al Palazzo dell'emiciclo. So dall'inizio dell'avventura elettorale che i colleghi e amici candidati, il Presidente candidato mi aveva chiesto di svolgere questo ruolo per la nostra regione Abruzzo, per il nostro Consiglio soprattutto. Io ho accettato ben volentieri, spero solo di essere all'altezza del compito che spetta non solo a me ma all'intera assise regionale del Consiglio regionale. La seconda votazione vede tre candidati indicati dai rispettivi gruppi. Lucrezio Paolini per il Partito Democratico, Paolo Gatti per Forza Italia e Riccardo Mercante per il Movimento 5 Stelle. Ad essere eletti sono Paolini con 15 voti e Gatti con 10. Resta fuori il Movimento 5 Stelle. La terza votazione finisce nella stessa identica maniera della precedente. Il candidato del PD, Alessio Monaco e quello di Forza Italia, Giorgio D'Ignazio, vengono eletti e il candidato del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ranieri, riceve solo 6 voti, quelli della sua rappresentanza. Quindi quelli del Movimento 5 Stelle sono ufficialmente fuori da ogni incarico dell'ufficio di presidenza. Sara Marcozzi inizia, quella che si preannuncia, una lunga battaglia in Consiglio regionale, quella per avere voce in capitolo. Lo sapevamo, no? E quello che abbiamo denunciato nei giorni scorsi è così. Quando il PD e Forza Italia si mettono d'accordo sono perfettamente in linea con quella che è la linea della politica nazionale. Non c'è alcuna differenza. Quando noi diciamo che non c'è alcuna differenza tra i vari partiti, che siamo noi contro loro, purtroppo è una verità. Se pensiamo che l'ufficio di presidenza prevedeva, oltre al presidente, 4 cariche, quindi 2 vicepresidenti e un segretario, e al Movimento 5 Stelle, che è la prima forza politica di opposizione, perché che ne dica il consigliere Febbo, lui in coalizione ha preso più di noi. Noi come singolo movimento votato abbiamo preso il 21,3%, per cui la prima forza politica che maggiormente doveva essere rappresentata all'interno dell'ufficio di presidenza era proprio il Movimento 5 Stelle, e invece assistiamo, come sempre, ad accordi tra PD e Forza Italia, tra PD e centrodestra.